A Mussolente è vietato lavare la macchina e gli spazi aperti. L'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete acquedottistica deve essere limitato strettamente all'uso domestico. L'amministrazione invita inoltre i cittadini ad adottare ogni comportamento finalizzato al contenimento dei consumi idrici. Il sindaco ha emanato in data odierna questa ordinanza a causa della siccità perdurante. Il provvedimento è nato soprattutto da una comunicazione da parte dell'Alto Terrigiano su servizi dove il Comune Mussolente è il gestore dell'acqua dove ci dicono che la portata e la pressione dell'acqua viene ridotta questo con protocollo del 20 gennaio. Quindi ci siamo detti, ci siamo guardati e abbiamo detto dobbiamo chiedere ai cittadini sia privati che imprese di razionalizzare l'utilizzo dell'acqua. Nel mese di dicembre sono accaduti in Veneto mediamente 2 mm di precipitazioni il 97% in meno della media del periodo. Tradotto in portata d'acqua sono 40 milioni di metri cubi che mancano all'appello. Diciamo che sono quasi due mesi e mezzo che non ci sono precipitazioni carattere piovoso o nevoso e ad oggi la falda che è veramente così è sotto di un terzo ci impone così di chiedere a tutti quanti di non sprecare l'acqua. Previsti controlli a campione, le sanzioni vanno da 25 a 500 euro. Previsti controlli a campione, le sanzioni vanno da 25 a 500 euro.